Antonino e Gaetana Sciacca, oggi un giorno importantissimo, quasi un record. Qui ci troviamo a Mitoggio. Cosa avete celebrato, signor Antonino, oggi? 70 anni di patrimonio. Quando vi siete sposati? Il 27 febbraio del 1954. Signora, signora, cos'è che le è piaciuto di suo marito? Tutto. Ma lo risposerebbe nuovamente? Certo. Signor Antonino, cosa vuol dire alle giovani coppie che stanno nascendo in questi ultimi anni? Si può continuare a stare insieme e vivere bene la propria vita? Lo proprio vedo così. Ciao a tutti. No, ciao a tutti.